Ci sarà un po' di tutto, ci saranno grandi film di grandi autori, di registri affermati, moltissime scoperte, molte proposte di nuovo cinema, nuovi talenti, opere prime e seconde da tutte le parti del mondo, una mostra aperta alla contemporaneità, curiosa, senza pregiudizi e quindi ci sarà cinema spettacolare, cinema d'autore, cinema radicale, cinema sperimentale, documentari e film di finzione, una grande attenzione per il reale e la contemporaneità.